E ciao a tutti ragazzi, io sono Eletro16 e oggi siamo qui in un nuovo video della Minecraft SCP Allora ragazzi, oggi questo è un video speciale Allora, intanto non c'ho ancora la nuova skin che vi avevo promesso, ma tranquilli La prossima volta forse, e stavolta in definitiva forse ci sarà Ma molto probabilmente perché ho quasi finito le modifiche, quindi veramente, manca pochissimo Tra l'altro, come avrete notato, almeno spero che avrete notato Adesso, in questo episodio, abbiamo la bellezza dei suoni Quindi possiamo finalmente essere fieri, possiamo sentire il nostro 999, cosa c'ha veramente da dire E soprattutto avere un'atmosfera un po' più fiera Non avevamo da un'eternità i suoni E si sta proprio facendo notte Tra l'altro ho scoperto che il Brachiosauro fa i suoni Ciao Brachio Non li sta facendo adesso Ecco, fa i suoni Eccolo qui Però direi di fare una cosa chiamata togliere il... L'audio di Minecraft Perché dà fastidio Eccolo qui lui, bellissimo Minchia, adesso con i suoni si capisce veramente che questo è un Brachiosauro Ed è bellissimo È un po' che non sta capendo do cazzo andare comunque però, eh Allora ragazzi, oggi non so che SCP andare a vedere Perché? Abbiamo i suoni, quindi potremmo vedere qualcosa di particolare Ma non so proprio quale Non ho nessuna idea di quale dei tanti SCP Potremmo andare a vedere Forse questa, non lo so Qua c'è uno scheletro Due scheletri Tutti mo' qua E visto che là c'è la riunione di condominio degli scheletri Andiamo da quest'altra parte E ritroviamo il nostro Brachio preferito Ma quanto è bello Non me ne frega un cazzo Boh ragazzi, io direi che possiamo andare Dove dobbiamo andare? In una cella particolare che mi sembra, mi pare O almeno mo' non mi ricordo Eh, boh Vediamo da questa parte cosa c'è Faccio un po' un giro per vedere cosa c'è Vediamo un po' da questa parte che cosa c'è A parte le capre però, eh Ah, ma mi seguono? Ma Si addomesticano con Con la pizza Ma che me stai, coglione? Hanno fatto un caprino ragazzi Non me ne frega un cazzo Guardate il caprino piccolino Però io me ne devo uscire da qua Quindi sappiamo come addomesticare le capre Poverine però Siete bloccate Uscite Libertà le capre Andiamo da questa parte Che mi sa che c'era qualcosa di interessante Ah Ah Non lo so Io in questo episodio volevo fare qualcosa di particolare E non lo so Questa porta qua ragazzi Questo SCP qua Che aveva visto Giovanna In realtà l'avevo visto io primo Per primo Ma ho detto Ehi Giovanna Fallo vedere agli iscritti Questo robo qui Che cos'è? Questa qua ragazzi E' proprio una porta celeste Che avevo visto anche in qualche video di Lion Ed è proprio un SCP Vediamo un po' Allora si chiama The Living Dimension Ed è l'SCP 3608 Va bene Io prendo il token Questo lo spacco Tra l'altro mi sa che la porta Ecco Non la posso togliere No raga Non la posso togliere la porta Non la posso più togliere Cioè Non si può spaccare Indistruttibile Prima di andare a vedere A usare questa porta Che tra l'altro E' spawnata proprio in una struttura Come se convincesse Proprio una cosa imponente Voglio andare a casa Perché sto coso Mi sembra che c'era nel computer Degli SCP Per vedere un po' Qua c'è stata l'esplosione Oddio ho sentito un baby zombie Ok Andiamo a vedere un po' A casa Il catalogo degli SCP Cosa dice su questo SCP qua Che voglio capirlo Anch'io A parte che io sono stupido Che potevo usare il portale Lo sto usando sempre meno Comunque Vediamo un po' Dovrebbe essere l'ultimo Se non erro Qua Vediamo un po' Che questa lista È un po' lunghetta Però diciamo che Un po' di roba L'abbiamo già vista Eccolo qua SCP SCP-3608 Dice che SCP-3608 Is sapient Predatory dimension È una Dimensione predatoria sapiente Accessed by Passing Trasping door From Aiding side Tipo Una Attraversando una porta Di strane dimensioni Fondazione Research Have Determinated That SCP-270 Is able To see Fawning Energy From The negative Emotion In Is Ah Allora Mi sembra Che ho capito Che sto coso Toglie le emozioni Cioè la fondazione Ha scoperto Che sto Cristo Allora adesso Che andiamo Vi spiego Allora da quel che ho capito La fondazione Ha scoperto Che sto Cristo Qua Attrae Le emozioni negative Cioè questo si divora Delle Emozioni negative Delle persone Quindi diciamo Che ha un tipo Un controllo Delle persone Che ci entrano dentro Minchia Devo avere paura Il numero Era il 3608 3608 Giusto? Si Giusto Ed eccolo qua Bello Ed esorbitante Io direi Di mettere qua Il portale Che non si è messo Il portale Olè Eccolo qua Il portale Così almeno Possiamo Abbiamo una via Di fuga Per magari Nel caso Comunque bisogna Anche un po' Avere paura Di sto coso Perché da quel che so Sto qua Ti blocca Nella dimensione Ma non lo so Cioè non ne sono sicuro Per sbaglio Lo stavo Per utilizzare Io qua Ho finito la pizza Però direi Di non perdere Altro tempo E vediamo Un po' Vediamo ragazzi Perché noi siamo qui Per vedere Per esaminare L'SCP Quindi abbiamo Questa porta Davanti a noi Meglio Dietro di noi E vediamo Subito Che fa Prova a Cliccarci E mi ha Teletrasportato Come era ovvio Che fosse Ok Ragazzi Ci ha messo Un po' L'avete visto Fa uno strano suono Sto posto Comunque Ragazzi C'è anche la porta Per uscire Fa uno strano suono Ragazzi Sto posto Che tra l'altro Suono che avevo anche Sì è qua Ad avviene Fa uno strano suono Tipo un Beboop Suono che avevo Anche sentito Mentre ero Nelle vicinanze Della porta Se io mi allontano Se mi allontano Non c'è Se io sto Vicino alla porta Questa fa sto suono Cioè guardate Sentite questo Brrrr Che io sento Voi non lo so Se si sentirà Con questo coso Sta dimensione Che è fatta Di Che cos'è Di Polvere di calcestruzzo E poi sotto Sì è fatta Proprio di polvere Di calcestruzzo Primo piano Grigio chiaro E poi sotto piano Grigio normale Tra l'altro Non so voi Se io sto Vicino alla porta Dentro la dimensione In realtà Credo Se sto in quel punto Lì raga Mi da questi effetti Negativi E questa dimensione Raga Aspetta che Finisce l'ansia E la nausea E questa dimensione Ragazzi È letteralmente Desolata Abbandonata Cioè Solamente il calcestruzzo E la calcestruzzo Poi non so Sotto Eh Sotto ci sono Strati più rinforzati C'è la calcestruzzo Grigio Il calcestruzzo Grigio È una dimensione Raga Abbandonata Ricorda molto Un deserto Ma tanto Eh C'è proprio un deserto Evitiamo di perderci Che qua Già come vedete Si vede pochissimo Che ho già Ah eccola La porta Buo raga Sto posto è proprio Nalanda Desolata Non c'è niente Letteralmente Ci sono io Che minchia Oddio Ma quanto è alta Raga guardate È pazzo Il mio personaggio Dio No ma Ma era bellissimo Comunque Sarò sincero Lo voglio rifare Perché mi è piaciuto Tantissimo Cioè qua Qua Aspetta aspetta Guarda Oddio Ah È bellissimo No vi giuro È bellissimo Guardate quanto è bello Aia però Buo ragazzi Io qua vi direi Che qua La Il deserto Del molise L'abbiamo visto Non c'è niente Perché qua non c'è Nemmeno un nemico Un Una Qualcuna Ma che bioma siamo Posso vederlo No aspetta Ragazzi Dice che il bioma È la living dimension The living dimension Cioè la dimensione vivente Che è il nome Delle scp Proprio Ma io ragazzi Sto qua Come me lo porto Cioè come Tra l'altro Il suono non lo fa più Oddio Non lo fa più Ragà Se io ci clicco Mi sa che se io ci clicco Qua Ecco Mi riporta qui E Ecco ragà Ha ripreso Sto suono strano Lo fa Se solo Se mi trovo Nelle vicinanze Ehm Vabbè ragazzi Ho Questo scp Un po' Bizzarro Nasconde un po' Di alone Di Bistero Nulla di che Comunque Nulla di che Un po' Una porta Semplice Semplice Ragazzi Io vi direi Che per questo video Può essere tutto Mi raccomando Lasciate un bel like Che Like Non fa male Iscrivetevi Che Mi raccomando Proprio quello Fa benissimo E nulla da me E dalle SP999 E tutto Ci vediamo Nel prossimo video Dove avrò anche La nuova skin Ciao